Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video! Allora, questa è una collaborazione con un'azienda che mi ha inviato delle cosine da spacchettare Adesso le spacchetteremo insieme ma prima vi darò un paio di news su... su di me Allora, intanto se mi trovate bianca cadaverica tranquilli, non sto male e il problema è che sono vestita di nero, ho le unghie nere e mi sono anche fatta la tinta a castano scuro quindi sembro... mortisia però devo dire che mi piacciono tantissimo questi nuovi capelli e... e niente mi piace anche il fatto che io sia così bianca visto che io adoro la non abbronzatura ok? io odio l'abbronzatura e mi piace essere il più bianco possibile effetto che riesco a ricreare anche attraverso fondotinta magari di una piccola tonalità più chiara della mia ma comunque un'altra novità che posso dirvi è che spero di ritornare su youtube a fare video regolarmente però è una cosa che non vi posso promettere ma spero veramente di riuscirci è una cosa che non vi posso promettere perché... perché fare video per me è uno sfogo un qualcosa che mi deve venire per divertirmi per... non lo so cioè non voglio che diventi una cosa oddio devo fare video, devo fare video, devo fare video voglio relax su questa situazione e quindi farò video quando mi andrà lo so che è un po' brutto da dire però non voglio che diventi una cosa troppo finta poi perché poi risulterei anche finta io nei video e niente, adesso spacchettiamo il pacco che mi è arrivato da questa azienda l'azienda si chiama MyCase e vende cover allora nel frattempo io ho anche cambiato telefono e ho preso l'iPhone 8 Plus a Natale me l'hanno regalato quindi ho in pratica solamente una cover che è questa qui mi ha contattato questa azienda che si chiama MyCase e che vende cover per qualsiasi tipo di telefono e... cioè ce ne sono di tantissimi tantissimi tipi dopo vi farò vedere però io ne ho scelte due in particolare che mi piacevano tantissimo allora andiamo ad aprire wow 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 allora ok qui c'è una specie di ricevuta che c'è oh ma wow cioè hanno anche le scatole proprio personalizzate bellissime bellissime tam 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 eccole qua una cover ecco la scritta fashion l'ho scelta apposta perché è una cosa che io dico sempre Mi sono accorta che la parola fashion è una cosa veramente che, cioè è una parola che io dico almeno una volta al giorno con la mia amica, guarda quanto è fashion quella, quindi niente, cioè l'ho presa un po' a mo' di sfotto ecco, non è che lo dico wow la fashion week, no no no, io dico wow fashion, fashion. E' una parola che io dico nel senso wow, fashion i tedeschi con i calzini sotto i sandali, cioè questo. E poi l'altra cover è con questo fiocco rosa che mi piaceva, mi piaceva, semplicemente mi piaceva. Però questa azienda dà anche la possibilità di creare cover personalizzate. Dopo io vi farò vedere tutto quanto utilizzando l'applicazione. Adesso pulisco il mio telefono in una maniera molto professional e fashion. Allora questa è la prima cover e a me piace tanto, molto carina, non credevo fosse con il bianco attorno, pensavo fosse trasparente come questa qui, però non mi dispiace neanche il fatto che sia bianca. Probabilmente però si sporcherà subito, visto che io ho tratto i telefoni proprio malissimo. Però comunque è molto carina. Davanti sta in questo modo, comunque dopo ve le faccio vedere meglio. E la scritta fashion è il mio motto della vita. Fashion, wow. E invece adesso andiamo a provare l'altra con il fiocchetto. Anche questa era la sua scatola, veramente mi piace tantissimo questa scatola. Ha anche tipo dei ghirigori rosa. Ah ma si apriva così. Si apriva semplicemente così, invece quella l'ho smontata tutta quanto. Questa penso sia la mia preferita tra le due perché è molto carina, veramente. Ok, carinissima, veramente. Bella, bella, bella. Assolutamente magnifica. Mi piace, mi piace. Il punto a favore di questa azienda è che veramente ne ha un mare, un mare. E qualsiasi cover voi stiate cercando c'è. Lì c'è. C'è con i fiori, c'è con il maschile, c'è con i supereroi, c'è con qualsiasi cosa. E il bello è che la potete anche personalizzare. Adesso stacco la fotocamera dal frontale e vi farò vedere sul telefono un po' come funziona l'applicazione. Allora, intanto vi volevo far vedere quanto sono veramente carine le confezioni con tutti questi ghirigori qui, con la scritta My Case qui sopra. E qui c'è scritto My Style, My Protection, My Case. Sono veramente carine e ovviamente non arrivano, come ho detto, nella bustina di plastica come quelli di Aliexpress. E questa qui appunto è con la scritta Fashion. Eccola qua, questa qui è la cover con il fiocco. E' molto molto carina, mi piace tantissimo. E quindi adesso andiamo a vedere come funziona l'applicazione. Allora, l'applicazione è semplicemente questa, My Case. Eccola qua. E vedete, c'è shop, crea la tua cover. Ad esempio, sul shop troviamo tutte le cover già predisposte. Ci sono quelle invernali, però ovviamente si può andare anche per categoria. Quindi, nuova collezione, top 100 cover, le più belle. Ad esempio, autunno, Game of Thrones. Cioè, di tutto. Per San Valentino, cover femminili, cover estive. Veramente di tutto. Invece poi, se torniamo alla home, possiamo fare anche crea la cover. Basta scegliere il tipo di telefono. Ad esempio, vedete, proprio ci sono tutti quanti. Dagli Acer, dagli Alcatel, Apple, Blackberry, Coolpad, HTC. Ci sono tutti quanti. Samsung, qualsiasi tipo di telefono. Ad esempio, io andrò a mettere il mio Apple iPhone 8 Plus. e ci fa scegliere un po' la qualità della cover. Scegliamone una a caso. Ok, e qui c'è la nostra cover che possiamo personalizzare. Possiamo personalizzarla con immagini, quindi prese dalla nostra galleria. Oppure, possiamo scattarla sul momento, ma non credo che qualcuno si faccia una foto così sul momento. Ad esempio, io voglio andare a mettere questa foto che è una foto che ho scattato. Ok, basta metterla qui. Vedete, me l'ha già prestabilita lui, nelle grandezze, nelle misure, in tutto. E vedete, questa sarebbe la mia cover personalizzata. Ma un'altra alternativa è che si può personalizzare anche con delle scritte. Quindi, magari, io posso mettere Flavia. Aspettate. Flavia, ecco qua. Scelgo il colore della scritta, posso scegliere veramente qualsiasi cosa. Mettiamo, ad esempio, bianca. Bianca, ok. Scelgo la misura. Qualsiasi cosa. E questa sarebbe la mia cover personalizzata. Dopodiché, dico... Ah, nella foto posso anche scegliere gli effetti più carini che, secondo me, stanno meglio. Vedete? E poi, semplicemente, clicco su Fatto. E aggiungo il carrello. E tutto qua! Come vedete, questa azienda è molto... Fornita, per quanto riguarda le cover. E sono contenta di aver collaborato con loro. E tutto qua! E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Commentate qui sotto. Fatemi sapere se voi acquisterete su My Case. O se non avete la minima intenzione. E se avete preso delle cover personalizzate oppure no. E se volete, iscrivetevi al canale. Io adesso, come sempre, saluto due di voi che mi seguono. E mi hanno chiesto di essere salutati in un mio video. E sono Eleonora Andreoli e Samantha LaGioia. Un bacione! Inoltre, se volete, seguitemi sui miei due social. Che sono Instagram e Facebook. E su entrambi i social mi chiamo Flavia Lindor. Non dimenticatelo mai. Io adesso vi saluto, vi mando un grosso bacione. E ciao a tutti!